Benvenuti cari amici al nostro appuntamento settimanale con lo studio del compendio e del catechismo della Chiesa Cattolica. In questo periodo stiamo affrontando il tema della Chiesa, Chiesa chi sei? E' la domanda con cui 50 anni fa il Concilio Vaticano II iniziò il suo percorso e approfondì il tema dell'identità della Chiesa, della sua essenza e anche della sua missione nel mondo pubblicando poi il documento conciliare fondamentale su questo argomento che è la Lumen Gentium, documento che cerchiamo anche di approfondire in queste trasmissioni in modo tale da fare un cammino parallelo e anche collegato tra lo studio del catechismo e lo studio anche del concilio che tra poco celebreremo nell'anniversario del cinquantesimo di indizione. E quest'oggi sempre all'interno del percorso della Chiesa entriamo in un nuovo grande capitolo dopo aver affrontato i fondamenti generali dell'identità della Chiesa, la Chiesa come popolo di Dio, la Chiesa come sacramento del regno, la Chiesa come corpo di Cristo, la Chiesa come Tempio dello Spirito Santo. Quest'oggi iniziamo quest'altro percorso su altri fondamenti diciamo dal punto di vista dogmatico costituiti fin dall'antichità con il concilio niceno costantinopolitano nel quale professiamo che la Chiesa è una Santa Cattolica Apostolica. Questi quattro aspetti che definiscono ulteriormente la missione e l'identità della Chiesa e che da quest'oggi inizieremo ad approfondire proprio con la prima domanda di questo capitolo, la numero 161 che si chiede perché la Chiesa è una. Domanda dunque numero 161 perché la Chiesa è una perché ha come origine e modello l'unità di un solo Dio nella Trinità delle persone, come fondatore e capo Gesù Cristo che ristabilisce l'unità di tutti i popoli in un solo corpo, come anima lo Spirito Santo che unisce tutti i fedeli nella comunione in Cristo. Essa ha una sola fede, una sola vita sacramentale, un'unica successione apostolica, una comune speranza e la stessa carità. Allora questa è la risposta a questa grande domanda sulla Chiesa Una. La Chiesa Una, una anzitutto perché si identifica e fa riferimento ad un unico Dio, ad un solo fondatore e capo Gesù Cristo, ad un unico Spirito che l'anima e poi anche nella sua vita concreta una sola fede, una sola vita sacramentale, un'unica successione apostolica, una comune speranza e la stessa carità. Ecco vedremo in questa puntata di approfondire questo tema che qui viene sinteticamente espresso. Lo faremo anzitutto studiando i tre numeri del Catechismo che approfondiscono questo argomento dal numero 813 al numero 815. E questo capitolo del Catechismo, questo aspetto, questa parte che parla dell'unità della Chiesa, nel suo fondamento, poi vedremo anche le conseguenze a livello di dialogo ecumenico, di rapporto con altre confessioni cristiane, prende spunto da un documento particolare del Vaticano II, l'Unitatis Redintegratio, che si occupò principalmente e specificatamente di questo argomento dell'unità. E quindi cita anche questo documento, in alcune sue parti, oltre che alla Lumen Gentium e alla Gaudium et Spes. Vediamo un po' cosa dice il Catechismo intorno a questo titolo, il Sacro Mistero dell'Unità della Chiesa, un titolo significativo perché ci dice che anzitutto il tema dell'unità riguardante la Chiesa non concerne primariamente l'impegno ecumenico dei cristiani, che è pure importante, ma come fondamento il mistero di Dio, che è la fonte e l'origine di questa unità. E infatti al numero 813 del Catechismo si dice che la Chiesa è una per la sua origine. E qual è questa origine? Il supremo modello e il principio di questo mistero è l'unità nella trinità delle persone di un solo Dio, Padre e Figlio nello Spirito Santo. Quindi l'origine, la fonte principale, fondamentale dell'unità della Chiesa, come vedete, è la Trinità, un solo Dio in tre persone, ed è quindi questa unità divina e misteriosa che fa da sorgente di questa unità alla quale tutti i cristiani sono chiamati. La Chiesa è una anche per il suo fondatore, il fondatore della Chiesa è Gesù Cristo. Sembra assurdo doverlo ribadire, ma non è così scontato saperlo, perché non sono poche le persone, soprattutto tra i giovani, che ritengono che la Chiesa sia stata fondata da altre persone, da San Pietro per esempio, o da San Paolo, o addirittura da Costantino il Grande. E' bene ribadire dunque questo concetto fondamentale perché sottolineare il fatto che la Chiesa è fondata da Cristo ci ricorda anche che questa origine, questo fondamento, ne garantisce l'unità. E il Catechismo specifica ulteriormente questo concetto citando il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes al numero 78 dove si dice il figlio incarnato infatti per mezzo della sua croce ha riconciliato tutti gli uomini con Dio, ristabilendo l'unità di tutti i popoli in un solo popolo e in un solo corpo. E terzo aspetto, quindi l'origine della unità della Chiesa dopo aver chiarito che risiede nella Trinità, nella sua unità e poi nell'unico fondatore Gesù Cristo, il Catechismo come terzo aspetto mette in luce l'azione dello Spirito Santo che è l'anima della Chiesa e quindi la Chiesa è una per la sua anima. Lo Spirito Santo che abita nei credenti e tutta riempie e regge la Chiesa produce quella meravigliosa comunione dei fedeli e tanto intimamente tutti unisce in Cristo da essere il principio dell'unità della Chiesa. È dunque proprio dell'essenza stessa della Chiesa di essere una. E qui viene citato invece Clemente d'Alessandria che diceva che stupendo mistero, vi è un solo Padre dell'universo, un solo Logos dell'universo e anche un solo Spirito Santo ovunque identico, vi è anche una sola Vergine divenuta Madre e io amo chiamarla Chiesa. Ecco questi aspetti fondamentali per spiegare l'unità della Chiesa come vedete ma lo vedremo anche in seguito nei numeri successivi che cercheranno di dettagliare meglio anche le conseguenze di questa unità e anche dell'unità quando essa viene negata o sfregiata anche dalle divisioni tra i cristiani, queste divisioni non sono in grado di intaccare questo asserto fondamentale, questa scaturigine, questa origine fondante della Chiesa che è appunto il fatto che essa nasce da una fonte potremmo dire quasi autonoma che è il desiderio di Dio, la volontà di Dio di unire tutti i popoli in un solo popolo, nel suo corpo e quindi la Chiesa è originata da questa unità in Dio e in Dio c'è questa unità perché uno è il Padre, uno è il Figlio, uno è lo Spirito Santo, uno è la Santissima Trinità, uno è il fondatore della Chiesa e uno è lo Spirito che la anima, quindi in queste cose l'unità c'è. Poi un altro ulteriore passo che il Catechismo fa dopo aver mostrato il fondamento solido, massiccio potremmo dire di questa unità, un fondamento misterioso che nasce da questa origine trascendente della Chiesa spirituale, soprannaturale, dal cuore stesso di Dio, il passo ulteriore è una specie di fotografia veloce sull'orizzonte della Chiesa dove si vede che pure in questa unità, in questa Chiesa una, c'è una grande diversità, una grande diversità, quindi non è un monolite la Chiesa, è una ma è molto vasta sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo nella moltiplicità delle caratteristiche che contraddistinguono questo corpo sociale, questo popolo visibile che è la Chiesa. E il numero 814 dice che fin dal principio questa Chiesa una si presenta con una grande diversità che proviene sia dalla varietà dei doni di Dio sia dalla molteplicità delle persone che li ricevono. Nell'unità del popolo di Dio si radunano le diversità dei popoli e delle culture. Tra i membri della Chiesa esiste una diversità di doni, di funzioni, di condizioni e modi di vita, nella comunione ecclesiastica vi sono legittimamente delle Chiese particolari che godono di proprie tradizioni. La grande ricchezza di tale diversità non si oppone all'unità della Chiesa. Tuttavia il peccato e il peso delle sue conseguenze minacciano continuamente il dono dell'unità. Anche l'Apostolo deve esortare a conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vinco della pace. Quindi in questa parte, in questo secondo passo, noi vediamo che vengono sottolineate due verità. La prima è che la Chiesa, pur essendo una, contempla al suo interno una grande diversità, una grande varietà di doni, di ministeri, ma anche di esperienze, di tradizioni. E questo può essere manifesto a tutti, soprattutto quando per esempio avviene un viaggio apostolico del Papa, quando il Papa si recca in qualche parte del mondo e durante le celebrazioni, per esempio all'offertorio, in genere viene espressa questa varietà, non solo nei canti, ma anche per esempio nelle vesti, nel modo di atteggiarsi, nelle danze, nel linguaggio. Anche nella simbologia artistica, architettonica, sono diverse le tradizioni presenti nella Chiesa, ma questa diversità non minaccia assolutamente l'unità della Chiesa, perché, come vedete, nasce da una corrispondenza tra i doni dello Spirito e l'accoglienza della moltiplicità delle persone che ricevono questi doni. Dio è grande, è chiaramente più grande del mondo Dio, quindi, e noi vediamo quanto già il mondo sia un agglomerato di diversità. Nonostante il processo di globalizzazione, tuttavia, i popoli mantengono anche le loro tradizioni, le loro visioni di vita diverse, i loro usi e costumi, che spesso sono anche collegati alla tipologia del territorio, perché ogni territorio anche provoca le persone, i popoli, ad adattamenti diversi, e quindi crea culture diverse, ma anche per storie diverse, percorsi diversi, eccetera. Quello che mina l'unità della Chiesa, quindi, non è la diversità, non è questa varietà, potremmo dire, piuttosto è il peccato, il peccato e il peso delle sue conseguenze, che minacciano continuamente il dono dell'unità. E questo è il grande problema, il grande dramma, anche della Chiesa contemporanea, dove anche ci sono tanti credenti, tanti cristiani, che purtroppo perdono addirittura la fede, talvolta a causa di questi peccati, che sfaldano la forza della Chiesa, perché i peccati sono una chiusura all'opera dello Spirito Santo. Se lo Spirito Santo è l'anima della Chiesa, che garantisce anche questa unità, è chiaro che ogni azione che vada contro l'opera dello Spirito Santo, il peccato è questo, in un certo senso rappresenta anche una negazione dell'unità. Ecco perché il peccato non è mai un fatto privato e basta. Tante persone ritengono che i propri errori, i propri sbagli, le proprie scelte morali siano solo un fatto privato, intimo. Senz'altro i propri peccati non sono da andare a sbandierare in piazza, anche per tutelare la propria dignità e per non creare ulteriore scandalo, però è anche vero che anche il peccato più nascosto, più segreto, rappresenta uno sfregio per il corpo di Cristo e per l'umanità tutta, perché appunto costituisce una porta chiusa all'azione dello Spirito Santo che anima l'unità tra gli uomini. E quindi, in un certo senso, il peccato è una minaccia perché impedisce allo Spirito Santo di compiere la sua azione di unificazione tra gli uomini. Ecco perché non è mai solo un fatto privato. Uno non può dire, ma in fondo non ho fatto male a nessuno. Tanta gente che viene a confessarsi e dice, sì, ho fatto questi peccati, ma non ho rubato, non ho ucciso. Sì, ma ogni peccato ha una conseguenza anche di tipo sociale perché mina la comunione, proprio perché impedisce all'origine della comunione, all'origine dell'unità di agire in noi e per mezzo di noi di raggiungere gli altri e creare questa armonia nell'unità. Questa è una piccola parentesi aperta, però vedete che il Catechismo ne parla, quindi ne parliamo anche noi. In questo numero 814, la Chiesa nella sua unità si presenta molteplice, una grande diversità, una grande varietà. Ciò che minaccia l'unità non è questa diversità, questa varietà, ma è il peccato. E poi il numero 815, quali sono i vincoli dell'unità? Cioè, cos'è che permette a questa unità di essere viva, di realizzarsi concretamente? Concretamente, la risposta la troviamo nella lettera ai Colossesi. Al di sopra di tutto, la carità, che è il vincolo di perfezione. Questo l'abbiamo già visto anche parlando dei carismi. Nella scorsa puntata abbiamo visto che alla fine ciò che determina la bontà di un carisma, oppure la sua efficacia, la sua fecondità, è la carità. Così pure l'unità, al di sopra di tutto, è vincolata dalla carità. Ma l'unità della Chiesa nel tempo è assicurata non solo dalla carità, ma anche da legami visibili di comunione. Quindi si può anche sperimentare questa unità in determinate circostanze o attraverso determinate azioni che la Chiesa esprime, la comunità dei credenti esprime. E il numero 815 mostra quali sono questi aspetti che manifestano l'unità della Chiesa. Ecco, il primo aspetto è la professione di una sola fede ricevuta dagli apostoli. Quindi il professare la stessa fede che è racchiusa in maniera canonica o meglio espressa in maniera ufficiale attraverso il simbolo. Ce ne sono due ricorrenti, cioè professioni di fede formali, sono due, quella degli apostoli e il credo niceno costantinopolitano. Ecco, coloro che professano apertamente l'adesione a questi contenuti di fede e la professano vivendo in un certo modo garantiscono un primo passo di unità fondamentale all'interno della Chiesa. Poi un altro aspetto che caratterizza l'unità della Chiesa secondo legami visibili di comunione è la celebrazione comune del culto divino, soprattutto dei sacramenti. Questo era ancora più chiaro quando la Messa si celebrava in latino perché in qualsiasi posto del mondo noi ci trovassimo era possibile assistere, partecipare alla Messa riconoscendo l'identità di celebrazione del culto divino, la comunione della celebrazione del culto divino. Ma anche adesso è evidente questa possibilità. Io conosco per esempio delle persone, dei laici, che non ultimi quelli che vanno in Burundi per esempio che sapendo di dover partecipare alla Santa Messa e conoscendo comunque che la Messa in ogni parte del mondo nella Chiesa Cattolica viene celebrata con lo stesso rito o meglio non con lo stesso rito perché ci sono anche riti diversi ma nel rito romano diciamo con le stesse scadenze, con le stesse parti allora portano via magari quei foglietti che vengono pubblicati con le letture in modo da capire un po' le letture ma poi la celebrazione prosegue nella lingua locale ma è intellegibile anche dagli stranieri perché sanno che cosa sta accadendo anche se il rito viene celebrato in un'altra lingua e questo ci dice appunto di questa celebrazione comune del culto divino che determina in qualche modo manifesta meglio il vincolo di unità della Chiesa e poi un terzo aspetto che assicura attraverso dei legami visibili di comunione l'unità della Chiesa è la successione apostolica mediante il sacramento dell'ordine che custodisce la concordia fraterna della famiglia di Dio è una garanzia di unità la successione apostolica perché ci dice anzitutto che noi possiamo avere la serenità la tranquillità del fatto che ciò che noi crediamo ora corrisponde a ciò che Gesù Cristo intendeva che credessimo quando venne sulla terra perché la successione apostolica rende contemporaneo in qualche modo Cristo e i suoi apostoli essendo questa successione ininterrotta dal momento in cui Cristo istituì il collegio apostolico questo collegio con i suoi successori continuò fino a raggiungere noi nell'epoca contemporanea con il nostro Papa e i nostri Vescovi in comunione con Lui possiamo star tranquilli del fatto che ciò che essi ci insegnano ci impartiscono quando agiscono appunto nel loro ministero è conforme a quanto il Signore ci ha insegnato e questo è fonte di unità questa fiducia che possiamo avere possiamo ragionevolmente attribuire a questo processo che si chiama successione apostolica è anche fonte di unità custodisce, dice il catechismo custodisce la concordia fraterna della famiglia di Dio perché questa concordia ha dei motivi ragionevoli per essere esercitata per essere portata avanti è come quando in una famiglia c'è una chiarezza di regole ecco pure il padre e la madre guidano la famiglia non solo occupandosi delle sue necessità materiali ma anche dando delle istruzioni esercitando un magistero potremmo dire in quella famiglia i figli crescono meglio perché vengono educati non solo dentro il flusso dell'esperienza ma anche attraverso una spiegazione un insegnamento autorevole dei genitori che impartiscono loro anche un insegnamento morale spirituale e lì dove c'è questo insegnamento anche esplicito anche a parole ai figli è più chiaro il punto di riferimento che devono avere che devono condividere vivendo nella famiglia e quindi è facilitata anche la concordia tra di loro questo accade anche nella chiesa infine c'è il numero 866 che fa una sintesi di questi tre numeri che abbiamo letto che abbiamo approfondito dice la chiesa è una essa ha un solo signore professa una sola fede nasce da un solo battesimo forma un solo corpo vivificato da un solo spirito in vista di un'unica speranza al compimento della quale saranno superate tutte le divisioni quindi questo numero di sintesi apre anche un elemento nuovo che non è presente nei numeri precedenti appunto ci dice che con l'avvento del regno di dio con la sua piena realizzazione e costituzione queste diversità verranno superate non solo diversità ma tutte le divisioni verranno superate in questa unità perfetta con Cristo adesso ascolteremo un brano molto famoso l'inno della giornata mondiale della gioventù del 2000 Emanuele ho voluto mettere questo brano quest'oggi perché le giornate mondiali della gioventura presentano uno dei momenti culmine nei quali i giovani ma tutta la chiesa fa esperienza di questa unità nella diversità quante culture quante lingue quanti modi di vivere la fede di esprimere la propria appartenenza all'unica chiesa si manifesta in queste occasioni in cui migliaia migliaia milioni di giovani si radunano di giovani della chiesa si radunano ed esprimono questa unità proprio attraverso questi raduni straordinari bellissimi è stato molto intenso per esempio quest'anno durante la GMG di Madrid il momento in cui dopo che ci fu quella specie di cataclisma perché infuriò un temporale proprio sull'aeroporto nel quale erano radunati i giovani e il Papa non riuscì a dire quasi niente alla gente, ai giovani lì radunati dopo un po' quando si placò il temporale e ci fu l'adorazione eucaristica fu un momento straordinario perché anche da casa anche attraverso la televisione tanto più lì sul posto si avvertì questo silenzio straordinario in quel tipo di assemblea di fronte all'unico Signore che era una manifestazione eloquente della unità della chiesa attorno al suo Signore e questo canto Emanuele cerca di esprimere questi concetti attraverso la forma poetica della canzone dicendo per esempio questo ritornello siamo qui sotto la stessa luce sotto la sua croce cantando ad una voce dice proprio l'unità l'unità della chiesa e c'è un ritornello in particolare che anzi un paio di ritornello di strofe scusate che vorrei sottolineare che dice proprio questa questa unità della chiesa la strofa quarta getta una luce pasquale sull'unità della chiesa dice la morte è uccisa la vita ha vinto è Pasqua in tutto il mondo un vento soffia in ogni uomo lo spirito fecondo che porta avanti nella storia la chiesa sua sposa sotto lo sguardo di Maria comunità e poi anche anche la strofa sesta in qualche modo esprime questa questo anelito l'unità questo desiderio è giunta un'era di primavera è tempo di cambiare è oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare per dare svolte parole nuove convertire il cuore per dire al mondo ad ogni uomo Signore Gesù che in questa opera di annuncio la chiesa trova la sua unità ascoltiamo l'Emmanuel e dopo riprenderemo il nostro approfondimento dall'orizzonte da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede sentiamo l'eco della parola e risuona ancora da queste mura e da questo cielo per il mondo intero di noi di noi di noi e da questo tra noi siamo qui sotto la stessa luce sotto la sua croce Cantando ad una voce E' l'Emanuele, l'Emanuele, l'Emanuele E' l'Emanuele, l'Emanuele Dalla città di chi ha versato sangue per amore Gli ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire Seguendo Cristo insieme a Pietro, rinasce in noi la fede Parola viva che ci rinnova e cresce in noi, siamo puri Sotto la stessa luce, sotto la sua croce Cantando ad una voce E' l'Emanuele, l'Emanuele, l'Emanuele E' l'Emanuele, l'Emanuele Grande dono che Dio ci ha fatto E Cristo il suo figlio L'Emanica è rinnovato E' l'Emanuele, l'Emanuele E' l'Emanuele salvata E' l'Emanuele, l'Emanuele E' l'Emanuele, l'Emanuele E' l'Emanuele, l'Emanuele Sotto la stessa luce, sotto la sua croce Cantando ad una voce E' l'Emanuele, l'Emanuele, l'Emanuele E' l'Emanuele, l'Emanuele Morte, incisa, la vita, vinto Pasqua in tutto il mondo Vento soffia in ogni uomo Lo spirito fecondo Che porta avanti nella storia La chiesa sua sposa Sotto lo sguardo di mani Comunità, siamo qui Sotto la stessa luce Sotto la sua croce Cantando ad una voce E' l'Emanuele, l'Emanuele, l'Emanuele E' l'Emanuele, l'Emanuele Dei debitori del passato Dei secoli di storia Di vite date per amore Di santi che han creduto Di uomini che ad alta quota Ti insegnano a volare Di chi la storia sa cambiare Come Gesù siamo qui Sotto la stessa luce Sotto la sua croce Cantando ad una voce E' l'Emanuele, l'Emanuele, l'Emanuele E' l'Emanuele, l'Emanuele, l'Emanuele E' giunta un'era di primavera E' tempo di cambiare E' oggi il giorno sempre nuovo Per ricominciare Per dare sfonte e parole nuove Per convertire il cuore Per dire al mondo ad ogni uomo Signore Gesù siamo qui Sotto la stessa luce Sotto la sua croce Cantando ad una voce E' l'Emanuele, l'Emanuele, l'Emanuele E' 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 l'Emanuele C'entra la sua croce Cantando ad una voce E' l'Emanuele, l'Emanuele E' l'Emanuele, l'Emanuele Giù Hoon Lasch slows E' l'Emanuele, l'Emanuele Canto a tua voce Il Papa Benedetto XVI ha manifestato circa questo tema dell'unità perché in questo periodo per ben due volte quest'anno il Papa almeno per due volte ha parlato in maniera molto concreta dell'unità della Chiesa nei termini che abbiamo un po' forse di sfuggita ma comunque abbiamo approfondito questa mattina. Il primo l'unità della Chiesa è un dono divino durante il concistoro che è avvenuto nel febbraio del 2012 il Papa ha ricevuto il lunedì 20 febbraio 2012 ha ricevuto in udienza i nuovi 22 cardinali accompagnati dai loro familiari e durante questo incontro ha parlato proprio dell'unità come dono di Dio che è un po' il primo aspetto che abbiamo approfondito anche nella trasmissione di oggi. Ha detto sentitevi ancora di più vicini al loro cuore e alla loro ansia apostolica. Ascoltate con viva speranza le loro parole di padri e di maestri, siate uniti a loro e tra di voi nella fede e nella carità per essere sempre più fervorosi e coraggiosi testimoni di Cristo. Questo lo ha detto ai parenti, ai fedeli, ai parenti dei cardinali, proprio individuando anche in queste persone, in questi di fatto successori degli apostoli, un punto di unità. La creazione di nuovi cardinali è stata indicata dal Papa come un'occasione per riflettere sulla universale missione della Chiesa nella storia degli uomini. Sebbene le vicende umane siano molto spesso convulse e contrastanti, la Chiesa è sempre viva e presente, portando Cristo luce e speranza per l'intera umanità. Rimanere uniti alla Chiesa e al messaggio di salvezza che essa diffonde significa ancorarsi alla verità, rafforzare il senso dei veri valori, essere sereni di fronte ad ogni avvenimento. Vedete come il Papa riesce ad esprimere in maniera molto esistenziale e concreta quanto ci siamo detti stamattina. E in un passaggio che a me è piaciuto molto di un discorso che il Papa ha fatto all'inizio della Quaresima ai parroci di Roma, viene ulteriormente concretizzato questo fatto che l'unità è fonte della Concordia, l'unità nella Chiesa è fonte di Concordia, ma chiede anche, oltre che essere un dono di Dio, chiede anche un esercizio da parte dell'uomo. Il Papa ha detto non c'è unità della Chiesa senza umiltà, l'ha detto ai parroci di Roma con queste belle parole. Debbo saper accettare la mia piccola posizione nella Chiesa, ha detto Benedetto XVI usando la prima persona per rivolgersi al clero romano. Debbo saper accettare la mia piccola posizione nella Chiesa. Il Papa sta parlando di se stesso, come è possibile la piccola posizione è il Papa? Ma è così, perché l'unità della Chiesa, la sua grandezza, non è determinata semplicemente da una giusta posizione di persone, ma è originata da uno spirito immenso, lo Spirito di Dio, e ogni membro della Chiesa svolge il suo compito, anche il Papa. E nella misura in cui sta al suo posto e accetta la sua condizione, anche piccola, all'interno della Chiesa, serve all'unità universale. Il Santo Padre poi ha raccomandato i parroci di guardarsi dalla vana gloria. Non accettare questo esercizio di umiltà e scambiare la Chiesa per un mezzo per le proprie ambizioni personali non rende felice, ha osservato il Papa. Bisogna anche non cadere nella tentazione di apparire, ma al contrario è necessario fare quel che Dio ha pensato di me e per me, che fa parte del realismo cristiano, ha aggiunto il Vescovo di Roma. Sono parole molto forti, ma molto concrete anche. E ancora, dice il Papa, anzitutto ha mostrato un atteggiamento, uno stile di vita segnato dall'umiltà, ma poi ha anche mostrato un altro indicatore di via verso l'unità. Diceva, dobbiamo riappropriarci del contenuto della fede, ha proseguito il Papa, come ricchezza per l'unità, non come un pacchetto di dogmi, perché Cristo sia conosciuto, la verità sia conosciuta e cresca l'unità nella verità. Senza verità non si possono ordinare i valori, siamo ciechi nel mondo e dalla verità nasce la carità. Quindi anche l'importanza di fondare l'unità sulla verità. Ecco, ho voluto fare anche questo inciso sui discorsi recentissimi del Santo Padre su questo tema. Come vedete, discorsi molto concreti. Ai cardinali ha detto che l'unità è dono di Dio. Ai parroci di Roma ha detto che l'unità è frutto dell'umiltà e anche della fede, cioè della condivisione, della comunicazione di fede, intesa come ricchezza per l'unità, come condivisione della verità. Adesso, per concludere la nostra trasmissione, vorrei riprendere alcuni passaggi della Lumen Gentium su questo tema. Per esempio c'è un punto che sarebbe molto interessante da approfondire, ma non abbiamo il tempo per farlo bene. Però qualcosa dico perché nel Concilio Vaticano II è avvenuto un passaggio abbastanza originale dove si è fatto un confronto tra la Chiesa, un riferimento ecclesiale, all'unità ipostatica. Che cosa vuol dire l'unità, l'unione ipostatica, l'unità ipostatica che cos'è? È l'unità delle due nature di Cristo. Quando noi diciamo che in Gesù Cristo esiste una sola persona, ma con due nature, una umana e una divina. E questo dogma, questa verità fondamentale, fu espressa molto bene da Papa Leone Magno al Concilio di Calcedonia quando disse che le due nature consistono in Cristo in modo distinto, immutabile, indiviso e inseparabile. Riferito alla Chiesa, questa unità di Cristo, l'unione delle due nature di Cristo, ha portato a chiedersi se e in che modo la Chiesa partecipi di questa unione ipostatica, cioè come in essa consistano in qualche modo queste due nature. Noi abbiamo visto che la Chiesa è originata da Dio, trova la sua origine e l'origine dell'unità in Dio, ma poi quando noi vediamo la Chiesa nella sua concretezza, mica ci sembra di vedere Dio, anzi, molte volte vediamo il contrario. E allora, durante il Concilio, questo problema è stato affrontato perché non sono del tutto assenti anche attualmente delle correnti che vanno fuori strada da questo punto di vista. Magari proclamando una Chiesa solamente terrena, e questo sarebbe veramente una disperazione perché non avremo nessun ancoraggio terreno alla salvezza, e quindi la Chiesa non potrebbe costituire effettivamente un sacramento di salvezza nel mondo, oppure attribuendo la Chiesa solo un'aurea divina, diciamo una consistenza divina, ma questo tipo di Chiesa parterebbe solo a quel pensiero, a quel desiderio, a quella volontà di Dio per la quale Egli ha, attraverso Cristo, affondato questo popolo e questo sacramento di salvezza. Allora, il Concilio Vaticano II ha affrontato molto bene questo problema centrale, che a noi sembra un po' difficile, magari, ma è molto importante per capire, anche per noi, per capire che cos'è la Chiesa, che consiste proprio nel cercare di comprendere in che modo avviene l'unione tra la Chiesa e lo Spirito Santo, come, che tipo di rapporto c'è, cos'è che genera l'unione tra queste due entità apparentemente disgiunte e invece profondamente unite, perché abbiamo visto che lo Spirito Santo anima la Chiesa. Allora, la Chiesa, la risposta è questa, la Chiesa è il segno della presenza dello Spirito Santo che in essa e per suo mezzo compie la salvezza degli letti. Essere nello stesso tempo segno e causa di grazia è l'essenza stessa del sacramento o del mistero, segni visibili della forza divina invisibile. Ci troviamo ancora e sempre davanti alla Chiesa, sacramento e mistero. Quindi, la risposta a questa domanda, come si esercita, come si realizza l'unione profonda tra Dio e la Chiesa, tra lo Spirito e la Chiesa, è questa, attraverso il sacramento. Cioè, la Chiesa è sacramento, è segno. Quindi, in virtù di questo segno, che non è qualcosa di passivo di fronte all'opera della salvezza, ma è un segno attivo, potremmo dire, la Chiesa partecipa di quest'opera di salvezza. Ma la dimensione umana della Chiesa deve essere presa totalmente sul serio, sotto pena di vederla svanire, non in Dio, ma nel vuoto. Per quanto sia malagevole la conciliazione di questi due aspetti, la Chiesa esiste ancorata alla nostra terra, in pieno mondo umano, perfettamente identificabile, ma insieme sostrato di una potenza sovraterrestre e spirituale. Se questo miracolo non si realizza, la redenzione non è per noi. Quindi, la Chiesa resta terrena, però è anche sostrato, dice, è bella anche questa parola, nel senso che, sembra quasi che anche il cielo sia fatto a strati, diciamo, e lo strato più basso del cielo è la Chiesa. Si potrebbe anche intendere così, non so se sto facendo un'operazione di licenza letteraria, ma mi piace pensarla anche così, no? Lo strato del cielo che mi raggiunge si chiama Chiesa. La Chiesa resta una indivisa, malgrado le divisioni fra i cristiani, malgrado anche la quasi impossibilità di misurare in termini precisi la profondità delle sue strutture. E' anche questo passaggio molto importante. Perché? Perché noi in realtà non sappiamo quanto grande è la Chiesa. Noi vediamo una piccola porzione di Chiesa. Il problema qual è? Che molto spesso pensiamo alla Chiesa concependola nel modo con cui ci viene presentata dai media, che è un modo molto superficiale, è molto secondario, e quindi producendo in noi anche questa visione dei pregiudizi che non rendono ragione e omaggio alla verità. tant'è vero che basterebbe che una persona presse veramente gli occhi sulla Chiesa che lui vede, a cui lui può avere accesso effettivo, che sostanzialmente in genere è la parrocchia, e dovrà ammettere che tanti pregiudizi che ha crollano, perché nonostante la modestia e la povertà delle nostre piccole comunità cristiane, non si può dire che esse non siano vivaci, che non siano comunque una provocazione grande nella vita dei nostri paesi, un segno della presenza di Dio, per quanto povero, per quanto umile, per quanto contraddittorio talvolta, ma pure segno che i nostri paesi privi di questo segno sarebbero un'altra cosa. Ecco, non è che ci sarebbe questo vuoto, si percepirebbe. E d'altra parte, se è vero che noi possiamo fare una verifica di cos'è la Chiesa, o comunque di renderci conto di far crollare i nostri pregiudizi rispetto alla Chiesa, guardando in faccia la realtà concreta, è anche vero che la Chiesa è qualcosa di immenso, e non si può rinchiudere in un unico sguardo, in un unico giudizio, e tuttavia, nonostante questa immensità, ce lo fa capire bene la Lumen Gentio, rimane questa unità profonda, la Chiesa resta una e in divisa, malgrado le divisioni fra i cristiani, malgrado anche la quasi impossibilità di misurare in termini precisi la profondità delle sue strutture. Un altro aspetto, ed è l'ultimo, spero, perché questa mattina, quest'oggi vi sto un po' forse annoiando su queste cose, che però sono molto importanti, riguarda la diversità nell'unità, ne abbiamo parlato stamattina, ma volevo leggere il passaggio della Lumen Gentio, che parla di questo. In tutte le nazioni della Terra è radicato un solo popolo di Dio, siamo al numero 13b della Lumen Gentio, in tutte le nazioni della Terra è radicato un solo popolo di Dio, poiché di mezzo a tutte le stirpi Egli prende i cittadini del suo regno, non terreno ma celeste. E infatti tutti i fedeli sparsi per il mondo comunicano con gli altri nello Spirito Santo. E così chi sta in Roma sa che gli Indi sono sue membra. Siccome dunque il regno di Cristo non è di questo mondo, la Chiesa, cioè il popolo di Dio, intraducendo questo regno, nulla sottrae al bene temporale di qualsiasi popolo, ma al contrario favorisce e accoglie tutta la dovizia di capacità e consuetudini dei popoli, in quanto sono buone e accogliendole le purifica, le consolida ed eleva, poiché bene essa si ricorda di dover raccogliere con quel re al quale sono state date in eredità le genti e nella cui città portano i loro doni offerte. Questo carattere di università che adorna e distingue il popolo di Dio è dono dello stesso Signore e con esso la Chiesa Cattolica efficacemente e senza soste tende ad accentrare tutta l'umanità con tutti i suoi beni in Cristo capo nell'unità dello Spirito di Dio. Dunque questo popolo è uno ma è anche universale, anzitutto nel senso di una estensione ecumenica e geografica, coinvolge tutto il mondo. Grazie alla sua origine celeste e al suo carattere trascendente questo popolo varca tutte le frontiere e accoglie membri fra tutti i popoli che unifica con la forza dello Spirito Santo. Così gli abitanti delle nazioni più diverse diventano fratelli e a me sembra che la Chiesa sia l'unico organismo umano che riesca a fare questo. L'ONU, per quanto incomiabile sia l'opera di questa organizzazione, riesce a evitare le guerre, non sempre, sicuramente non riesce a costruire fraternità per quanto abbia in se stessa questo ideale. La Chiesa invece realizza questo ideale attraverso la forza dello Spirito Santo. Una considerazione, nella civiltà antica si trovano ben poche tracce di questo universalismo. Pensiamo anche ai grandi imperi, Mentre invece, e questo lo diceva anche San Giovanni Crisostomo, già allora faceva questa considerazione che abbiamo visto anche presente nel testo, c'è questa citazione di San Giovanni Crisostomo che sta in Roma sa che gli Indi sono sue membra. I Romani sanno che gli abitanti dell'India sono sue membra, l'India rappresentava per i padri della Chiesa all'estremità della terra, cosa che non accadeva per le dominazioni antiche. Ecco, questi aspetti sono tutte suggestioni anche molto colorate quasi direi, cioè che ci fanno capire la grandezza della Chiesa. se uno butta lo sguardo un po' fuori del proprio orto, della propria parrocchia, ma anche restando in parrocchia si accorge di questo. Tuttavia, magari, è sensibile anche all'aspetto missionario della Chiesa come dovrebbero essere tutti i cristiani, tutti i cattolici. Si accorge subito che la Chiesa è vasta, è grande, che abbraccia veramente il mondo intero creando una fraternità universale. E questa unità straordinaria è la dimostrazione che veramente lo Spirito Santo anima la Chiesa con tutte le contraddizioni che ci sono e di fronte alle quali non bisogna chiudere gli occhi senz'altro, ma anche senza rigettare quei segni veri, autentici che ci sono perché purtroppo non di rado specialmente in questi giorni in cui ogni critica diventa acerba e quasi superlativa e assoluta c'è il rischio in ogni critica di censurare ciò che di buono c'è di non prendere in considerazione quel positivo che senz'altro è molto più grande di ciò che manca o di ciò che dovrebbe esserci.